Federico Faggin è una delle persone che ha più influenzato le nostre vite con lo sviluppo dei primi microprocessori negli anni 70. Confartigianato lo ha messo a confronto con gli imprenditori pesaresi per parlare di innovazione. Pierpaolo Rivalta. Molte volte si parla di microimpresa, di grandi imprese. Il tema è superato secondo noi, dobbiamo creare le condizioni essenziali oggi per fare imprese in Italia. Gli eventi corrono e chi fa imprese non può restare spettatore. A Pesaro Confartigianato metti i suoi associate a confronto con un ospite d'eccezione. Federico Faggin è l'inventore del microprocessore alla base della rivoluzione digitale e tra centinaia di suoi brevetti troviamo anche touchscreen e touchpad. Inoltre è fondatore di imprese, l'uomo giusto per parlare dei prossimi passi dell'innovazione in azienda. L'innovazione soprattutto con l'intelligenza artificiale, con la robotica che oggi comincia a essere di casa, ha bisogno però di una nuova coscienza in quanto bisogna capire che le macchine non possono fare quello che possiamo fare noi e viceversa e quindi bisogna lavorare insieme per il bene comune. I cosiddetti cobot i robot collaborativi sono già disponibili. Insegnare le persone a usare questo robot bene e invece che essere spossessati del loro lavoro. L'occasione da non sprecare è rappresentata dalle risorse del PNRR. Credo che dovrebbe essere rivisto nella logica di creare nuove opportunità rispetto al tema bellico che sta ovviamente cambiando tutti i paradigmi e questa è un'occasione storica per semplificare e fare impresa anche in Italia.